I grillini hanno spirito costruttivo, criticare gli ex e scordarsi il loro passato vaffanculista proprietario, ancora, di altri. Anime buone nate sotto un cavolo, leggi nulla, irredente alla mangiatoia. Hanno pure senso dell'umor condivisibile, cresciuto in loro per esserne vittime da quelli di. Angela Raffa, deputata M5 Stelle, 20 gennaio 2021. Fiducia ottenuta. Al Senato 156 per il sì, 140 per il no. La maggioranza assoluta era a 161. Vedremo gli sviluppi. Qui le mie pagelle sui due giorni di discussione in Parlamento. Voto 10 a Mattarella. In una crisi da pazzi ha mantenuto il giusto distacco. Ha fissato tempi e paletti in maniera riservata. Pronto ad intervenire se necessario. Voto 9 a Liliana Segre. Una donna che ha testimoniato nella vita la sua missione ricordare a tutti gli orrori di cui è capace l'uomo. A 90 anni, sconsigliata dai medici, ha deciso di recarsi in Senato per difendere le idee in cui crede. 8 per Giuseppe Conte. Pacato e attento. Ha il merito di aver teso la mano a tutte le forze politiche e con umiltà ha aperto su alcune delle richieste, così ha tolto anche gli alibi. Bene la decisione di portare la crisi in Parlamento di fronte al Paese. Voto 7 alla Moviola per capire se i due senatori ritardatari potessero votare o no. La prossima volta avremo anche i guardaline. 6 per la faccia di bronzo di Giorgia Meluni. Lei che votò per Rubi nipote di Mubarak. Lei che mantenne la poltrona di ministro grazie al voto di Razzi e Scilipoti. Adesso dichiara che si vergogna per Conte. Voto 5 per Emma Bonino. Ci sono stati anni in cui poteva giocare un ruolo politico che l'avrebbe consegnata alla storia. È mancato il coraggio di opporsi a Berlusconi e dal sistema. Peccato. Da allora in poi è stata solo decadenza. 4 per Ettore Rosato di Italia Viva. Nel suo intervento esprimendosi male insinua che noi 5 Stelle siamo dei minorati. Caro collega sai fare di meglio, soprattutto se la smettete con la vostra arroganza, un po' di umiltà a volte non guasta. Voto 3 per Isabella Rauti, figlia dell'ex segretario del Movimento Sociale Italiano. Il presidente Conte doveva dirci quando finirà l'emergenza. Ah, cercasi capo di governo munito di palla di vetro. Voto 2 a Matteo Renzi. Da Mentana dichiara, del rio amico fraterno pone veto su di me. Quando anche gli amici fraterni non ce la fanno più a sopportarti, due domandi ne è il caso di farsele. Voto 1 a Italia Viva che manda il comunicato. Da noi rottura responsabile Italia Viva garantisce astensione. Chissà chi sono stati i pazzi ad avviare questa crisi, premio della giuria Gasparri. È merito di Berlusconi se abbiamo ottenuto i soldi dello Recovery Fund. A breve ci diranno anche chi è stato in verità a far resuscitare la Zarù.